Noi continuiamo a ricordare il sisma del 24 agosto scorso, lo facciamo anche con un libro che ha raccolto diverse storie. Fabrizio Collarieti, collega dell'ANSA, ci presenta 3 e 36, il suo libro sul terremoto che ha colpito Amatrici, Accumuli, il nord del Lazio. Grazie e benvenuto Fabrizio. 3 e 36 storie e immagini del sisma del 24 agosto del 2016. Allora Fabrizio, intanto è una raccolta di storie? Sì, è soprattutto una raccolta di storie e di immagini, il libro raccoglie alcune storie che ho scelto tra le tante che c'erano da raccontare naturalmente. Sono storie di soccorritori e di soccorsi e le immagini raccontano questo, le prime ore di emergenza soprattutto. Infatti voglio far vedere, non so se la camera può riprendere le foto, ecco, insomma è una serie di foto, di foto che ritraggono quei momenti subito dopo, le scattate tu. Ci sono le foto dei colleghi dell'ANSA, dei fotografi dell'ANSA che hanno raggiunto Amatrici e Accumuli nell'immediatezza dell'emergenza, ci sono le foto che sono state concesse anche dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Croce Rossa Italiana e narrano i primissimi momenti già dopo la prima scorsa. Tu nel libro dici che quando si verifica una catastrofe spesso la cosa che si vuole fare è dimenticare, però dimenticare significa un po' mettere da parte, non risolvere. Questo libro ha come missione, come primo impegno, nel senso un impegno che poi è anche quello nostro, dei giornalisti che dobbiamo raccontare, è di mantenere viva la memoria su un fatto che ha sconvolto la nostra e la mia comunità. Il libro ha, prende, fotografa un periodo brevissimo di tempo se pensiamo, perché sono i primi 7-8 giorni dopo la scorsa del 24 agosto e è soprattutto un omaggio alle donne, ai uomini, ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino, della Croce Rossa, delle Forze dell'Ordia, ai volontari e agli stessi amatriciani che sono intervenuti. Qual è il filo conduttore di questo tuo racconto? Il filo conduttore è la forza di un popolo, la dignità di un popolo e soprattutto, in questo caso, essendo concentrato molto sui soccorsi, sull'impegno straordinario, ci sono storie che molti... Una in particolare? Una in particolare, nel libro è raccontata la storia di una coppia di amatriciani che sono rimasti per 7 ore sotto le macerie, ne sono usciti vivi e questa storia è raccontata insieme al racconto dei soccorritori, delle 5 persone che erano lì con loro e che dopo 7 ore gli hanno consentito di rivedere la luce. E' una storia bella, molto toccante, che a me ha colpito molto e che ho voluto raccontare perché mostra i due lati di una tragedia, cioè chi la stava vivendo sotto le macerie e chi era corso lì per dare speranza a una comunità in ginocchio. Fabrizio, ne approfitto per chiederti, visto che tu continui a stare sul posto e visto che noi siamo usciti da una diretta adesso, di un bilancio, di un primo bilancio, com'è adesso la situazione? La situazione, siamo molto in ritardo devo dire, credo che è urgente, necessario ormai iniziare a rimuovere le macerie, la prima cosa da fare è rimuovere le macerie. Perché non è stato fatto? Che risposta vi hanno dato? Ci sono molti fattori su questo, c'è la burocrazia soprattutto, ci sono i tempi che il nostro paese ha sintomatici, ormai che abbiamo fisiologici purtroppo anzi. L'inverno è stato duro, è un contesto particolare dove è avvenuto questo sisma, quindi c'è stata la neve, il maltempo. Quindi tutto ciò ha contribuito insomma a rallentare, però adesso insomma a un anno è ora di dare le risposte. Fabrizio Polarieti, grazie per il tuo contributo. 3 e 36 storie immagini del sisma del 24 agosto del 2016. Io ricordo che comunque la nostra testata, Tgere dal primo momento è stata ad Amatrice, ad Accumuli, ha seguito la risalita di queste città. Grazie a tutti.